Devo essere sincero, è un tema che non mi riguarda, nel senso a me non può riguardare l'individuazione di quelli che saranno i miei avversari. Bassolino ha detto che si candida, le primarie del PD ci saranno, non si capisce bene, se si saranno il 7 febbraio, il 20 marzo. Il 21 marzo è primavera e poi vedremo la campagna elettorale comincerà con la primavera, quindi io non voglio entrare in un dibattito che devo essere sincero, non mi appassiona e dall'altro non mi riguarda nemmeno, perché noi abbiamo tanti problemi da affrontare, tante cose da fare, tanto lavoro da mettere in campo, l'unico problema che non abbiamo è l'individuazione del candidato sindaco, perché io ho scelto con grande passione di ricandidare e se devo dire la verità, questo dibattito, se solo avessi avuto un millimetro di dubbio se ricandidarmi o meno, tutto quello che sta accadendo in questi giorni mi sta enormemente caricando nella scelta di ricandidarmi a sindaco di Napoli.